qui Renatina D'Amati aveva perso una brutta palla la recupera Borges si va alla conclusione ed Erika Ferrara che arriva a Rimorchio sblocca poco prima dell'esaurimento della prima metà di partita al punteggio con personalità rispetto della giovane età si appoggia ancora sulla compagna arriva Butimari-Morchio e segna il quarto gol nello spazio di 24 ore 1-2 devastante dell'Italia Butimà, Butimà lanciata dalle retrovie firma la doppietta 3-0 a 2-27 dal termine questa volta con una giocata più diretta e qui sulla conclusione 4-0 Ancora Manzueto questa volta non sbaglia sull'assist da parte di Renatina trova nella sua Puglia trova davanti al pubblico di Taranto il gol al secondo tentativo nello spazio di pochi secondi 40 secondi neanche qualcosina di meno con l'Italia che ancora prova ad andare a migliorare il proprio score Manzueto e alla fine Decao trova sotto misura il gol la sua prima rete nazionale per questa ragazza del 2003 che si toglie un'enorme soddisfazione 4-2 ieri 6-0 oggi a un'amore un'amore a un'amore Grazie a tutti.